Buonasera, benvenuto allo studio dello Stato dell'Arte, oggi primo singolo per Vito Bua. Ciao Vito! Buonasera! Buonasera, benvenuto allo studio dello Stato dell'Arte, per te, nuovo singolo per te, dà il titolo? Quando finisce un amore. L'ha scritto tuo padre, come ho capito. Insieme a? Salvatore Bisiccia. Benissimo, e Arrangementi Raffaele Cottardi, Rec Mix e Mastering Giuseppe Santanuscito, studio dello Stato dell'Arte, distribuzione, sia musica. Alza il volume e mi ci fai uno scorcio. Alza il zero. Buonasera, benvenuto allo studio. O Buonasera, benvenuto allo studio. Grazie a tutti. Passa, 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 puoi salutare qualcuno in particolare? Alla mia mamma, alla mia nonna, alla mia Maria, mia tia Fina, mia tia Greziella e alla mia amica Giovanna. E tutti i due nuovi fan che arriveranno? Che arriveranno. Un abbraccio, ciao, dito buco.